Bere tanto, almeno due litri di acqua al giorno, uscire prima delle 11 o dopo le 18, mangiare leggero, soprattutto la sera. Semplici ma efficaci consigli che chissà quante volte avrete sentito in vista della stagione estiva. I consigli per affrontare il caldo arrivano dalla Unità Operativa di Educazione alla Salute e dalla responsabile infermieristica del distretto sanitario di Gela. Un manuale, semplice ed efficace, che è stato diffuso ed è rivolto soprattutto agli ultra 75 anni e ai soggetti malati cronici come diabetici, cardiopatici, ipertesi o non autosufficienti. I responsabili e il distretto di Educazione alla Salute, insieme all'assessore Nadia Gnoffo, hanno fornito le linee guida riconducendole anche al contesto Covid-19. Una corretta alimentazione può prevenire dall'insorge di effetti sulla salute derivanti da colpi di sole. Curare l'alimentazione, un'alimentazione leggera, sana, che non preveda un impegno dell'organismo nel momento della digestione, ecco, e che sia facilmente fruibile, magari dividendo l'alimentazione in più momenti. L'altro aspetto che noi ci permettiamo di consigliare è quello di non uscire nelle ore più calde, è chiaro, perché magari prima delle 11 e dopo le 18, che sono i momenti in cui chiaramente le temperature si abbassano. Ecco, questo insieme a tanti altri possono essere i consigli, i consigli, ecco, quello che noi proponiamo ai nostri anziani. Infermieri e associazioni di volontariato offrono un servizio a domicilio gratuito per idratare i pazienti, ma è fondamentale la figura del badante o degli stessi familiari. L'ASPA ha attivato, diciamo, questo tipo di prevenzione a domicilio del paziente, come anche presso i poliambulatori e in qualsiasi struttura, dando tutti i consigli. In questo caso, per quanto riguarda i badanti, c'è un discorso che l'infermiere, diciamo, che va a domicilio dei pazienti e non solo, ci sono anche delle associazioni che vanno a domicilio dei pazienti, che danno il consiglio, cioè quello di andare a idratare il paziente, soprattutto colui che soffre, perché ci sono diverse fragilità, specialmente il paziente con deficit cognitivo, quindi la demenza senile, che non sente il bisogno di bere. Quindi non dobbiamo essere noi, o il caregiver, in questo caso il badante, o il figlio o il familiare, a, diciamo, dare da bere ai pazienti, idratarli e controllarli. E' dunque importante bere, anche in assenza dello stimolo della sete, evitando inoltre i pasti abbondanti, preferendone 4-5 durante la giornata. Mangiare in maniera adeguata, le cibi leggeri, la verdura, la frutta, ancora vivere in ambienti areggiati, non solo questo, ma anche idratarsi adeguatamente, cioè bere almeno 2 litri di acqua al giorno. Questo vale per tutti? Questo vale per tutti, vale per tutti. Cioè l'idratazione è una cosa importante ed essenziale.